Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video del mercato che faremmo Io sono Manuel e io sono Teo Oggi ragazzi siamo arrivati al Cagliari Cagliari è una squadra molto molto interessante Ci abbiamo messo un po' per fare questo mercato perché è molto difficile scegliere quali giocatori comprare, quali tenere E soprattutto abbiamo fatto un Cagliari che può puntare ad un piazzamento clamoroso in Champions Perché no? Con questa squadra per me potrebbe puntarci Anche secondo me Ricordiamo ovviamente che l'idea del mercato che faremmo è presa da Simone Seacolf Lasciamo il suo canale in descrizione come al solito e quindi direi di partire subito con i portieri Andiamo con i portieri dai In porta abbiamo Cragno, Olsen e Raffael Io qua non farei niente perché anche se Cragno è infortunato ma tra un po' rientrerà E Olsen è un ottimo vice che si può anche alternare con Cragno Infatti è Raffael comunque come terzo va bene Ricordiamo per il Cagliari ci siamo dati 10 milioni di budget Per te li può spendere Cagliari Soprattutto se vuole puntare alla Champions Anche perché è un ottimo periodo quindi se vuole puntare alla Champions ma deve spendere qualcosina a gennaio Esatto comunque 10 milioni non sono neanche tanti Anzi per gli acquisti che faremo saranno poi incredibili Direi di andare avanti quindi Portieri va bene così Andiamo con i difensori centrali Difensori centrali dove abbiamo Cepitelli, Clavan, Pisacane e Valuncheviz Allora qua c'è qualcosa da fare perché Cepitelli è infortunato ma tornerà e sarà penso il titolare Clavan e Pisacane sono due ottimi vice Che potrebbero anche alternarsi per il ruolo titolare Mentre Valuncheviz è un giocatore che non riesce a sfondare Qua a Cagliari E io lo andrei a prestare perché non c'è nessuno che lo compra credo E quindi andrei a fare un prestito Magari poi torna e è esploso e quindi ci facciamo i soldi E quindi in questo momento avremo tre giocatori Cepitelli, Clavan e Pisacane Ci serve un titolare per me E quel titolare gioca allo United E giochicchia diciamo perché non sta proprio giocando questa stagione Giocato davvero poco E andrei dallo United per Marcos Rocco E per 2 milioni andrei a prenderlo con il prestito Prestito quindi oneroso di 2 milioni Nel caso dovessimo arrivare in Champions Ci sarà l'obbligo di riscatto fissato 10 milioni Per me è un'operazione molto interessante perché Il giocatore ha anche molto di esperienza se vogliamo andare in Champions Esatto e poi allo United non sta trovando spazio E quindi come vedete avremmo Cepitelli, Clavan, Pisacane e Rocco Ottimi difensori centrali Bilancio inattivo di 8 milioni Per me lo United questa offerta potrebbe accettarla Perché tanto non sta giocando lo United Quindi anzi si intasca anche dei soldi Quindi direi va bene Passiamo con i terzi di destri dai Adesso abbiamo Fargo, Cacciatore, Pinna, Mattiello Io qua presterei subito Pinna perché secondo me non serve Non è pronto per la Serie A Certo Invece Cacciatore lo venderei a un milione anche a qualche squadra di Serie B O comunque una piccola E rimarrei poi con Fargo e Mattiello Adesso Esatto quindi bilancio inattivo di 9 milioni Tanto io penso che Cacciatore, una squadra di Serie B Oppure anche Basta, Serie A, che lo prenda a un milione ci sarà Sì sì E quindi Tacci i destri va bene Invece a sinistra Abbiamo Lico Giannis e Pellegrini Pellegrini non si tocca perché è veramente un giocatore giovane E molto forte Invece qua venderei Lico Giannis per un milione e mezzo E prenderei veramente un giocatore fortissimo Andrei dal Paris Saint Germain e gli chiederei Kurzawa Visto che è fine contratto Andrei con 8 milioni e mezzo Se a me ce lo danno Anche perché lui costa il suo valore 14 milioni Però è in scadenza di contratto E quindi ha solo 6 mesi Andrà via dal Paris E il Paris potrebbe farsi soldi Almeno qualcosina Per non venderlo a zero a Kurzawa E quindi avremmo Pellegrini, Kurzawa E bilancio inattivo di 2 milioni Potrebbe non sembrare troppo realistico ragazzi Ma fidatevi che non sta giocando troppo Ha fatto solo 10 partite e neanche tutta la titolare Tipo gioca un tempo O entra o gioca solo un tempo Esatto E quindi Mette poco spazio Soprattutto esperienza incredibile Giocato con la Francia Giocato con la Champions E per me è un giocatore fantastico Che al Cagliari potrebbe tranquillamente giocare E magari dare anche un esempio a Pellegrini Passiamo quindi con i mediani Il Cagliari gioca con il 4-3-2-1 E questo mediano è il centrale fra i tre di centrocampo Abbiamo Cigarini e Oliva Cigarini sta giocando sempre a titolare Ed è un ottimo giocatore Che per me si alternerà con il titolare Che adesso vi diremo Perché Oliva andiamo a venderlo Il suo valore è di 5 milioni Noi l'abbiamo riscattato per 4 E quindi per 5 milioni facciamo la plus valenza Andiamo a venderlo E quindi avremo 7 milioni Con questi 7 milioni io andrei dal Torino E andrei a chiedere Rincon Il venezuelano Che per me potrebbe tranquillamente venire al Cagliari Perché in questo momento Cagliari ha obiettivi più Molto più alti del Torino Esatto E quindi andrei dal Torino per 7 milioni A prendere il Rincon E in questo momento quindi avremo come mediani Cigarini e Rincon Bilancio a 0 Ma davvero dei mediani incredibili Passiamo alle mezziali Come mediani abbiamo Nandez Castro, Rog, Ionita e De Iola E l'occurrenza abbiamo anche Nengola anche si può abbassare Sì vero Quindi qua ne abbiamo veramente troppi Perché i titolari saranno Nandez, Rog Con Ionita e De Iola Che è un giovane che può crescere Insomma qua Castro di troppi Lo venderei per 6 milioni Esatto perché comunque Nandez e Rog non si tocca No Titolarissimi Ionita gioca su Giochi chiare Sì E De Iola è un altro che giovane Potrebbe anche crescere Magari non è più tanto giovane Ma comunque Può far bene E Ionita è un giocatore Che gioca spesso Sì sì Come riserva va benissimo Castro in più in questo momento Per me poi si infortuna troppo spesso Poi è anche vecchio Ha già 30 anni quindi E quindi per 6 milioni Andremo a vendere Quindi rimarremo con Nandez Rog, i titolari Ionita e De Iola come riserve E all'occorrenza Nengola anche si può abbassare Quindi va benissimo E Cigarini può anche fare la menzara O anche all'occorrenza Proprio Rincon Quindi con 6 milioni di budget Andiamo ai trequartisti E qua C'è davvero Tanta tanta roba Perché a trequarti Sulla trequarti abbiamo Naim Golan E Gio Pedro Poi c'è Birsa E poi c'è Ragazzi Ragazzi Un giocatore storico Del Cagliari Che è cresciuto nel Cagliari Rimarrà Perché comunque costa Davvero pochissimo Neanche mezzo milione E quindi Teniamo Ragazzi Mentre per quanto riguarda Birsa Ha un valore di mercato Ancora di un milione e mezzo E io a questo punto Per un milione e mezzo Birsa lo andrei a vendere Per me c'è qualche squadra Come magari Il Benevento Che sta salendo in Serie A Oppure il Brescia Che ha bisogno di un trequartista Non è che la squadra è piccola La troviamo Esatto E per un milione e mezzo Potrebbero tranquillamente Acquistare Birsa In questo momento però Avremo solo Naim Golan E Gio Pedro Che sono i titolari E ragazzo Come eventuale alternativa Per me qua serve Un altro trequartista Perché comunque L'occorrenza Può anche giocare Rogue Però serve un altro trequartista E per me quel trequartista È Agi Agi Giocatore che gioca al Gank Figlio d'arte Sta esprimendo davvero Un grandissimo calcio Ha delle doti Di dribbling Pazzesche È davvero Una tecnica incredibile E quindi Abbiamo venduto Birsa Un milione e mezzo Abbiamo sette milioni e mezzo Questi sette milioni e mezzo Andremo ad investirli Su Yanis Agi Quindi avremo Naim Golan Gio Pedro Agi Ragazzo Un bilancio A zero Però una trequarti Davvero Molto forte Tanta tanta roba Con Agi che magari poi Ti esplode E diventa addirittura Il titolare Quindi andiamo Con l'attacco adesso In attacco abbiamo Simeone Ceri Favoletti Io qua non farei niente Perché dobbiamo aspettare Anche il rientro Di Pavoletti Che non è qua Tarde ad arrivare Tanto penso che Sia verso fine marzo Inizio aprile Quindi ci sta Poi Simeone Titolarissimo Quest'anno Quanti gol ha già fatto Qualcosa Come forse Quasi in doppia cifra Già Mentre Ceri è il giovane Che tutti dicono Che è molto forte Di prospettiva Si è anche visto Nelle ultime partite Con veramente Ottimo Mi ricordo Quando contro la Sampdoria Ceri ha Ha fatto Ha fatto gol Perché tipo È giovanissimo Tipo due metri Ha fisicissimo Di testa Le prende tutte Veramente È un armadio È davvero forte Infatti anche la Juve L'ha venduto a Cagliari Ma se non sbaglio Anche a 9 milioni Quindi Tanta tanta roba Per me Ceri È un'ottima riserva E Simeone Vabbè Simeone Quando è in forma È davvero un attaccante spaziale Va bene Quindi andremo Andiamo subito a vedere La formazione Formazione che è questa qua Con Cragno in porta Abbiamo già detto Che può tranquillamente Giocare anche a Olsen Però per me Quando Cragno tornerà Vorrà l'Europeo E quindi giocherà Titolare Si giocherà lui il posto Insomma riuscirà anche Ad ottenerlo Sì sì Per l'Europeo penso Che parteciperà Cragno E poi dipende Come rientra Come terzini di destra Abbiamo Faragò All'occorrenza Può giocare Mattiello Però penso che Faragò Sia il titolarissimo Difesa abbiamo messo Claman e Rocco Aspettando il ritorno Di Cepitelli Ma comunque Quando tornerà Cepitelli Giocherà insieme a Rocco Ma c'è anche Pisacani Abbiamo tante tante alternative Come terzino sinistro Cursa Questo Questo per me è stato Un grandissimo colpo Io non penso Che sia realistico Perché comunque Cursa non sta trovando spazio No Gioca veramente E soprattutto È in scadenza Cursa Quindi Il Parì deve farci qualcosa Poi come mediano Rincon Davanti alla difesa Comunque Cigarini Pronto lì a subentrare Mentre come mezzali Nandesrog Quindi qualità Incredibile Tanta tanta qualità E tanta tecnica Sulla tre quarti Dicevo Pedro E Nengolan Somma Agi potrebbe magari Rubare il posto Uno dei due Se esplode Esatto Esatto E poi come punta Simeone Aspettando il ritorno Di Pavoletti E eventualmente Cerri Se serve qualcuno Quindi ragazzi Cosa ne dite di questo Cagliari da Da Champions Oppure Comunque almeno Da Europa League Per noi Questa squadra è davvero Molto interessante Con tanti giocatori Con tanti giocatori di esperienza Anche in difesa Comunque gente Che giocava al Paris Rocco giocava al United Clavon giocava al Liverpool E comunque anche abbastanza giovani Perché abbiamo anche Simeone Rog Faragò Agi Che sono giocatori giovani Anche Cragno E quindi è un buon mix Per me Per puntare davvero in alto Cosa ne dite? Fatecelo sapere con un commento Magari anche Con un mi piace E iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Passate dal link In descrizione Perché c'è il canale di Sickwolf Perché l'idea Del mercato che farei È sua Noi l'abbiamo solo Rivisitata E fatta Come la pensiamo noi Perciò ragazzi Direi che da Manu E Teo È tutto L'appuntamento E alla prossima Ciao raga Ciao